Nate! 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 L'avventura ha un nome! Nate! Buongiorno! Nate! Cazzo il tesoro! Nate! Anche il divertimento! E le idee più folli! E quando sentirai questo nome... Nate! Saprai che cose incredibili stanno per arrivare! Vai così! Big Nate! I nuovi episodi! Da venerdì 11 agosto su Nickelodeon e streaming su Paramount+. Ava sarà naprawdę una visione!